È una partita difficile, molto complicata, comunque secondo Siena è ben organizzato e sta bene anche fisicamente. È andata vicina anche alla vittoria nel secondo tempo, però con un gran carattere questa squadra è riuscita a portare a casa tre punti importanti che ci mantengono il primo posto. Siena sta facendo bene sia quest'anno come l'anno scorso, hanno cambiato il notore, però credo che lo zocco di questa squadra è la cosa più importante. Lo si è visto anche oggi, dal suo capitano Vergasso, da tutti gli altri. È una squadra che è un campo, è una squadra dove tutti faranno difficoltà, quindi non è andata bene, siamo riusciti a portare a casa questi tre punti.